Ciao a tutti, sono Danilo per PokerStrategy.com ed in questo video andremo a vedere quali sono i free roll giornalieri da 100€ offerti da PokerStrategy.com sulle varie room affiliate.it e andremo a giocarli per circa un'ora eccoci qui, è subito iniziato il primo free roll della serata che è quello su party poker come possiamo vedere siamo 225 iscritti andiamo a dare un'occhiata alla struttura si inizia con 3000 chip che corrispondono a quasi 80 big blinds i bui sono da 10 minuti che per un free roll è comunque una struttura abbastanza buona possiamo però vedere che mancano alcuni livelli intermedi il che rende il torneo più veloce possiamo definirlo quasi un semi turbo e quindi già dopo un'oretta, un'oretta e mezza ci ritroveremo a dover giocare in fase push fold per quanto riguarda l'approccio che possiamo avere ai free roll io consiglio di giocare in maniera molto tight e giocare le mani più forti per valore anche rilanciando con sides che possono essere maggiori di 3x possiamo fare anche 4-5x con donna donna più questo perché nei free roll i giocatori tenderanno a giocare con maggior leggerezza ovviamente sono molto più disposti a mettere le chip dentro e a guardarsi il flop visto che comunque non spendono nulla per giocarlo come sempre nelle prime fasi del torneo quando gli stack sono più o meno deep ad esempio abbiamo detto che in questo caso iniziavamo con 80 bui le mani migliori per giocare sono comunque sempre le mani speculative in quanto giocano molto bene post flop e ci possono permettere di legare un punto molto forte e cercare di prendere tutto lo stack agli avversari che andranno rotti felicemente con un over pair, una top pair ma a volte anche di meno ovviamente uno dei consigli che vale sempre ma in particolar modo nei free roll è quello di giocare sempre per il massimo valore quando abbiamo un punto forte dobbiamo spingere e cercare di venire pagati da tutte le mani peggiori per questo non ha molto senso slow playare quando ad esempio leghiamo già al flop una doppia coppia o un set anche se il flop è dry e non presenta particolari minacce alla nostra mano proprio questo perché i giocatori tenderanno ad essere più aperti e più disposti a mettere le chip nel piatto per quanto riguarda invece le fasi intermedie il gioco è leggermente diverso rispetto agli mtt diciamo low mid stake questo perché non ha molto senso nei free roll fare 3 bet light oppure cercare degli steal da posizioni finali con range molto larghi questo perché i giocatori tenderanno in ogni caso a difendere il loro buio quindi pur giocando in posizione non è detto che riusciremo a fare positivo contro di loro a meno che non abbiamo info particolari sui giocatori ad esempio sappiamo che possiamo rubare su di loro quando riguarda invece le fasi finali come detto questo torneo è una sorta di semi turbo quindi saper giocare bene una fase push fold diventa importante ovviamente è qui che ovviamente giocando con degli stack ridotti che possono essere dai 5 6 fino ai 10 12 14 big blind non c'è più spazio di manovra per poter giocare a poker post flop tutte le mani dovrebbero finire nel free flop ad esempio quest'ultima mano abbiamo visto come il giocatore abbia chiamato un rilancio 5 per con donna 9 off che è una mano che non ha moltissima potenzialità specialmente nei piatti multiway e risulta spesso dominata in questo caso io ho deciso di foldare k10 off da da questa posizione non l'avrei in ogni caso aperta nemmeno se fosse stato first in non ci fosse stato il limp del giocatore da utg questo perché k10 off è una mano che ancora non ha moltissima board equity non è difficile da giocare anche poi fuori posizione considerando che su parti poker i tavoli sono da 10 persone dietro di noi ne parlavano 5 e inoltre in piatti multiway non non abbiamo una buona giocabilità fossimo stati in posizione più avanzata avrei avrei sicuramente aperto da da first in la posizione finale ovviamente intendo qui ovviamente 10-4 off è una mano abbastanza brutta che possiamo tranquillamente foldare diciamo nella mano prima con k10 off da posizione finale fossi stato first in avrei avrei aperto probabilmente se ci fosse stato solo un limp prima di me avrei anche potuto provare ad isolare il problema è che comunque sempre il fatto che ci sono giocatori che si inseriscono da dietro quindi quindi non è detto che pur rilanciando riusciremo effettivamente ad isolare l'imper e a giocare il piatto in ez-up contro di lui in posizione quindi anche foldare k10 off nel caso in cui fossimo stati in posizione finale non sarebbe stato sbagliatissimo volevo volevo farvi notare che sul sito sul forum sono presenti ogni giorno dei thread dedicati proprio ai free roll nella sezione delle poker room qui ad esempio siamo in quella di party poker e c'è un thread dedicato apposta al free roll che stiamo giocando in questo momento dove potete commentare dire che siete dentro commentare le vostre mani condividere anche le vostre gioie nel caso in cui riuscite a vincere stesso discorso ovviamente vale per la nuova room affiliata netbet e people questo qui è il thread di oggi come potete vedere qui donno 8 suite ovviamente da posizione iniziale andiamo a foldare come potete vedere per ogni free roll c'è un thread dedicato per quanto riguarda il free roll di people's poker è necessaria la password viene linkato ogni volta il thread dove la potete trovare ovviamente dovete cercare quella del giorno esatto questo ad esempio oggi è il 6 di giugno e la password è questa qui in questo modo vi potete registrare e questi thread sono anche un buon modo per fare nuove conoscenze sul forum e vedere chi si cela dietro i nick ai tavoli e a chi corrispondono poi sul forum e anche per fare nuove amicizie perché no il prossimo free roll che si aprirà è quello su netbet inizierà fra 4 minuti e gli script qui sono molti di meno in quanto netbet è una room che è stata da poco affiliata e molti utenti stanno avendo dei problemi nell'affiliare l'account quindi tra poco inizieremo ad avere due tavoli e avremo anche più action e più spot da commentare nel frattempo possiamo seguire anche l'action al nostro tavolo abbiamo visto un push qui probabilmente aveva una mano molto forte dalla quale ha cercato di prendere il massimo valore in questo caso noi abbiamo asso 2 off c'è un rilancio i bui sono saliti quindi adesso siamo con 50 b blind di stack c'è un limp qui possiamo holdare ovviamente asso 2 nuovamente è una mano che è dominata quindi non è detto che se hittiamo l'asso riusciamo a farci pagare un po' lo stesso discorso anche con asso 4 anche se è una mano dominata però dallo small blind in un piatto multiway se fossero state suited avremmo anche potuto completare per giocarle visto che asso 4 suited sarebbe stata una buona mano speculativa ovviamente il nostro obiettivo sarebbe stato quello di cercare di legare il flash draw nut oppure prendere qualche progetto di scala nel caso in cui legassimo un asso dovremmo prestare un pochino di attenzione a non pagare i massimi agli assi migliori del nostro questa mano abbiamo potuto notare come Giuseppe Passo abbia deciso di mettere credo fossero circa 30 bui con un gutshot ed è stato fortunato sul river a chiuderlo il push diretto di orchideggia al flop non è che mi piaccia molto dire la verità non mi piace nemmeno moltissimo la sua apertura da posizione iniziale con jack x mi sembra qui abbiamo donna 9 suited fossero stati donna 10 suited già avremmo avuto più potenzialità e credo che l'overlimp mi sarebbe piaciuto di più in quanto mi aspetto che anche questo giocatore dopo di me possa limpare molte volte come di fatti è donna 9 suited è un po' un po' più sconnessa poi abbiamo anche questo giocatore abbastanza corto sul sul grande buio e se dovesse vedere molto dead money preflop infatti già il piatto era di di 300 con il suo stack era di 1000 avrebbe anche potuto usciare in proprio per cercare di rubare intanto ritornando a questa mano vediamo se riusciamo a vedere la carta ecco così ok intanto qui siamo in posizione finale con donna 10 suited qui ovviamente da first in andrò ad eseguire un raise 3x mentre intanto si apre anche torneo sul net bet su parti poker abbiamo in un flash draw l'avversario qui esce facendo una dunk bet abbastanza bassa io qui decido soltanto di chiamare cercare di tenere dentro anche l'altro giocatore rilanciare non mi farebbe impazzire intanto qui coppia di 4 da otc decide di aprire ovviamente qui a questo punto le opzioni sono due possiamo puntare o cercare per chiamarne una penso di preferire quest'opzione in quanto a questo punto con 10 abbiamo middle showdown value abbiamo un po' di showdown value siamo comunque battuti dai jack non li riusciremo a far foldare purtroppo l'asso al river non è una buona carta per noi però avevamo comunque la mano migliore in realtà ovviamente al river ho cercato per rivalutare in base all'azione degli avversari se giuseppe passo fosse uscito puntando forte gli avrei dovuto dare credito e avrei foldato se avesse fatto una puntata ridicola penso che anche per odds potevamo mettere intanto riducco un pochino la dimensione dei tavoli visto che alle 21 e 30 quindi tra 12 minuti inizierà l'ultimo free roll che è quello di su people's poker vediamo ok qui siamo stati chiamati da due giocatori il flop presenta dei progetti ci sono c'è un progetto a colore ci sono dei possibili gutshot ci sono due overcard alla nostra coppietta in three way qua non mi piace moltissimo fare la continuation bet siamo fuori posizione contro entrambi quindi qua penso che checkfoldare sia l'opzione di gran lunga migliore vediamo se riesco ad impostare qua donna 6 sweet ovviamente andremo a foldare questa tavola ecco qui mazzo a quattro colori che rende un pochino più è molto più facile da seguire l'action quando abbiamo il mazzo a quattro colori qui possiamo rivedere la mano precedente il giocatore sul bottone aveva flattato donna donna e qua possiamo rivedere la mano qua come dicevo all'unito del torneo la cosa fondamentale in questi free roll è quello di giocare per il massimo valore seguiamo qui la mano abbiamo una top pair su un board che presenta dei progetti qui abbiamo un giocatore che esce puntando la scelta è molto close penso che qui foldare sia l'opzione migliore visto che abbiamo una top pair senza kicker in pratica è un punto molto molto vulnerabile perché comunque al turn ci sono molte carte che ci potrebbero che ci darebbero fastidio tutti i k tutti gli assi i 8 i 9 anche nel caso in cui scendesse un 10 un jack diciamo non non avremmo una grossissima equity nella mano inoltre c'è il rischio che il giocatore che è uscito puntando il lead out dallo small blind possa avere una donna migliore della nostra qui 10 5 suited possiamo anche completare visto le odds che riceviamo 3 4 ovviamente andremo a foldare qui siamo in un piatto con altre 4 persone anche qui vi ho chiamato soltanto per cercare di legare un progetto a colore abbiamo legato abbiamo hitato una top pair ma ancora una volta è un punto molto vulnerabile spesso nei free roll seguono anche con delle overcards e qui veramente quasi tutte le carte che scenderanno a turn sono delle scary per noi e inoltre quando abbiamo l'avversario che esce puntando pot size è un altro che chiama penso che il fold sia abbastanza automatico facciamo in questa mano qui ovviamente con donna donna c'è un'apertura da posizione iniziale un call ovviamente qua la cosa migliore da fare sarebbe stata uno squeeze come sai ti avrei fatto circa 240 250 donna donna è una mano molto forte cioè nei free roll si può tranquillamente andare rotti invece lui si limita soltanto a chiamare altro errore qui abbiamo coppia di 10 gli stack a questo punto sono scesi quindi decido di aprire soltanto 2.5x riduco un pochino la mia size di apertura standard visto che gli stack sono più corti qui K9 decido di foldare visto che c'è un'apertura da OTG dicevo qui il giocatore poi al flop si limita soltanto al call e questo è un altro errore perché ha aiutato top set ci sono dei progetti da cui può prendere valore quindi qui dovrebbe assolutamente rilanciare per valore qui invece abbiamo un overpair in un flop draw ovviamente ovviamente può puntare per valore e protection è qualcosa migliore da fare faccio circa due terzi piatto come size standard di continuation bet anche perché siamo in un piatto con altre tre persone dentro qui 96 suited penso che folder anche perché i giocatori sui bui sono in sit out quindi non abbiamo grosse implied odds nel completare visto che poi giocheremo solo contro due in un piatto con due giocatori quindi qua penso che soldare sia ok forse ero state più connesse del tipo 8-6 vabbè avrei mettato flash però la pazienza tornando a questa mano così possiamo chiudere dicevo di rilanciare assolutamente per valore al flop turn scende una carta che a questo punto chiude un open ended chiude un eventuale progetto a colore e anche qui credo che rilanciare per valore protection sia la cosa migliore stando qui con 4-3 off abbiamo una mano senza grosso potenziale però riceviamo un free play quindi possiamo vederci il flop qua 8-4 off andrò a foldare poi al river scende 7 di pick che chiude mette 4 carte a colori freeza un po' l'action vediamo il giocatore che spara una terza la terza barrel andando qui abbiamo chiuso scala faccio ovviamente una value bet per provare a farmi pagare anche da un 10 alle volte che posso mettere un jack vediamo che ho metto i dati i giocatori e abbiamo la mano migliore dicevo qui il set di pick freezer molto spesso può freezare l'action il giocatore qui ne spara la terza lui decide di continuare con la sua linea passiva e questa volta è fortunato ma penso che aggredire su tutte le strade su tutte le strade sarebbe sicuramente stata la scelta migliore in assoluto in questo caso abbiamo passo 7 suited non andrò a completare dallo small blind semplicemente perché a questo punto del torneo gli stack sono già ridotti non abbiamo più grossissime implied odds come nel caso in cui gli stack sarebbe come nel caso in cui se gli stack fossero stati sui 60 80 big blind vediamo che i giocatori ne abbiamo uno con 30 uno con 28 29 un altro con 40 in più siamo fuori posizione quindi già solo per questo abbiamo implied odds minori nel giocare le mani speculative solo per il fatto di essere fuori posizione inoltre asso 7 è anche abbastanza sconnesso qui abbiamo a sodonne c'è un race 4 per da un giocatore che finora abbiamo visto giocare quasi sempre in maniera passiva qui però c'è un call credo che qui a sodonne off sia una mano abbastanza forte per poter effettuare uno squeeze abbiamo due blockers il piatto è già di 950 che rappresenta un quinto in pratica del mio stack per questo motivo decido di andare direttamente all in anche per per aumentare un pochino la mia fold equity e cercare di vincere più spesso il piatto il piatto preflop vediamo un giocatore che si inserisce dallo small blind qua ci giocheremo un all in multi way purtroppo siamo dominati e siamo subito usciti dal dal free roll ok siamo stati sfortunati perché quella mano era abbastanza un cooler direi che possiamo chiudere anche parti poco visto che il nostro free roll è durato circa una mezz'ora dicevo che dati stack quello è abbastanza un cooler perché abbiamo come detto abbiamo due blockers per per le mani del top 2% quindi riduciamo la le combo possibili che potrebbe avere l'avversario di assosso e donna nel caso in cui avesse asso k o kk abbiamo comunque un 30% di equity che non è comunque malissimo dando qui 10 jack off andrò a foldare dalla otg possiamo vedere ad esempio sull' equilab avevamo assodonna off suited e dobbiamo stimare un range all'avversario con cui fa quella mossa credo che lì il suo range possa essere qualcosa di questo tipo tralasciando per il momento l'avversario che era un pochino più corto e che poi ha messo con k3 off vediamo come contro il loro range stiamo circa al 40% il punto è che comunque il piatto preflop è di e rappresenta un quinto del nostro stack faccio questo calcolo questo qui è la nostra equity nel caso in cui venissimo chiamati dobbiamo anche contare le volte che vinceremo il piatto preflop preflop uncontested ad esempio possiamo prendere la calcolatrice e fare un paio di calcoli qui ovviamente con 5-7 off andrò andrò a affoldare dicevamo che preflop il piatto era di circa 1000 chip nel caso in cui usciamo benissimo chiamati vinceremmo altre 5000 chip quindi avremmo avremmo uno stack di quindi andremo a vincere 6000 chip diciamo due calcoli anche col documento scriviamo così viene riuscite anche a seguire meglio allora se chiamiamo se indichiamo con x la la nostra fold equity possiamo dire che x volte vinceremo il piatto uncontested e quindi vinceremo le 1000 chip che ci associ su heated dal bottone vado a rilanciare abbiamo un giocatore sullo small blind che dovrebbe essere in sit out solo il big blind questo tavolo dovrebbe dovremmo essere solo i e cobra credo diciamo i 8 6 off qui penso che anche qua possiamo aprire visto che ci sono tutti i giocatori solo perché ci sono i giocatori in sit out e abbiamo posizione su cobra quindi possiamo gestire un pochino meglio la mano qua donna 6 suited andrò a foldare flop non è non è bellissimo onestamente ci sono dei progetti l'avversario riesce puntando pot sides in dunk bet quindi credo che foldare sia la cosa la cosa migliore assolutamente adesso però abbiamo cobra che ha posizione su di noi quindi 9 3 off andremo a foldare ritornando alla mano su parte abbiamo detto che con x indichiamo la nostra fold equity ovvero la percentuale di volte che gli avversari dovrebbero foldare preflop affinché noi possiamo fare un push positivo e quindi possiamo indicare con 1 meno x la percentuale di volte che gli avversari ci chiameranno quindi quando verremo chiamati abbiamo detto che abbiamo circa un 39% di equity quindi 0 39% delle volte andremo a vincere le 6000 chip mentre il restante 61 andremo a perdere le nostre 5000 e per avere un push a chip fv pari a 0 imponiamo proprio che questo risultato sia pari a 0 quindi sviluppando qui otteniamo facciamo un pochino tutti i calcoli intanto abbiamo un po' di tempo morto qui k5 off una mano con pochissima pochissime potenzialità e andrò a foldare anche qui jackset off non mi va di giocarlo fuori posizione e quindi lascerò che prenda i bui quindi qui abbiamo detto 6000 il 39% delle volte mentre perderemo 5000 il 61% quindi in generale le volte che verremo chiamati perderemo 710 circa quindi sviluppiamo qua otteniamo jack jack 3 off andrò 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 a foldare questa volta abbiamo visto che prima ha difeso ed è uscito di nuovo puntando mentre qui andiamo a vedere diviso 1710 è uguale a 041 che vuol dire che 41% delle volte gli avversari dovrebbero foldare preflop affinché il nostro push sia a valore atteso a valore atteso diciamo nullo qui K9 suited essendo quasi siamo quasi 100 big blind deep qui abbastanza close visto che penso di poter chiamare nuovamente l'avversario qui esce donk bettando potside questa volta però abbiamo mettato una top pair e deciderò soltanto di di chiamare e continuare a lasciarlo puntare non voglio ingrandire troppo il piatto qui ovviamente giocavo per ritare qualche progetto qui adesso abbiamo una una scelta abbastanza abbastanza che credo che chiamare è quasi ok lo becchiamo con il kicker di poco superiore ok diciamo non avendo info sul giocatore credo che il call sia ci possa stare finora abbiamo visto che è sempre uscito cioè nelle uniche due mani che abbiamo giocato contro lui ha sempre puntato sempre con side strane nel suo range ci possono essere anche dei progetti mancati k peggiori del nostro un po' marginale onestamente il call sul river si può fare a volte potremmo anche foldare non avendo informazioni però come detto essendo un free roll poi in particolare in particolar modo su peoples i giocatori potrebbero fare queste giocate anche con mani con mani peggiori della nostra quindi credo sia abbastanza al limite lì il call in quanto noi abbiamo abbiamo anche sotto rappresentato la nostra mano chiamando chiamando soltanto flop e turn non so se l'avversario a che livello di pensiero sia l'avversario se sia in grado di attribuirci dei range quindi metterci su un range piuttosto che magari guardare piuttosto magari se è solo un avversario che guarda soltanto la check art onestamente questo non lo so però credo che in un free roll in un free roll ci possa stare a volte anche in un torneo a bai in basso su su peoples credo che si possa prendere quel colpo ho visto dal momento che ho visto farlo anche con con mani che nessuno se l'aspetta diciamo diciamo che siamo durati molto poco sia su people sia su party per questo video direi che possiamo anche chiudere qui a breve vedrete la seconda parte un saluto a tutti un saluto a tutti Grazie.